E' una giovane promessa dello sci alpinismo, già lo scorso anno medaglia d'argento alle Olimpiadi di Lausanna e reduce da due sesti posti in Coppa del Mondo. Stiamo parlando del bergamasco Luca Tomasoni, 18enne di Castione della Presolana, che domenica 10 gennaio ha soddisfatto le aspettative dalla vigilia, trionfando a Vermiglio in alta Val di Sole, in occasione dei campionati italiani giovanili individuali di Ski Alp, portandosi a casa il tricolore Under 20. L'esordio Juniors di Luca lo ha visto impegnato in una gara ostica, costruita su un tracciato di poco più di 8 chilometri e 1019 metri di dislivello positivo. Un percorso completato da Tomasoni in poco più di un'ora, che ad un passo dal traguardo lo ha visto precedere di soli 27 centesimi il rivale valtellinese Alessandro Rossi. Sì, questa qui a Vermiglio è sempre una gara dura e tecnica, l'abbiamo già fatta qualche anno e niente, ci sono appunto delle discese belle toste e è stata una gara tirata, molto tirata. Sono sempre rimasto secondo, vicino al primo, però mai primo e dopo sull'ultima discesa sono riuscito a metà ad andare davanti e concludere primo. Infatti non me lo aspettavo neanche io, tutta gara essendo stato secondo ho detto boh vediamo, vediamo sull'ultima salita. Poi mi sono avvicinato pian pianino e appunto sono riuscito alla fine proprio all'ultimo a vincere. Stavo bene, salita bene, le discese non ho rischiato troppo, parte un po' l'ultima e via. È un periodo un po' particolare, anche le gare sono cambiate un po' di cose, ad esempio appunto si arriva in partenza con la mascherina, distanze, premiazioni, subito è finita la gara. Anche per gli allenamenti è un po' un casino qua, siamo fortunati che abitiamo vicino alla neve quindi si riesce, però ecco, non è al massimo. Un campione tutto nostrano, già carico di impegni per il prossimo futuro, è cresciuto nello Sciclub Presulana-Montepora. Sciclub, sì, qua Sciclub Presulana, adesso nell'ultimo anno siamo diventati, siamo un po' cresciuti come numero e anche i piccoli hanno ottenuto dei buoni risultati e bene, sta andando bene. Adesso fra due settimane, in teoria, se non diventa zona rossa poi bisogna un po' capire come funziona, ci sarebbe la Coppa Italia in Valtellina e poi la settimana successiva si partirebbe per la Coppa del Mondo in Svizzera. Due gare, subito 5-6 giorni dopo in Francia ancora due gare, quindi un mese abbastanza duro. Talentuoso e scaramantico, vietato fare pronostici in vista delle prossime gare. Quello si vedrà solo dopo le gare, speriamo di andare sempre al meglio e vediamo cosa avviene.